Io penso che il Movimento 5 Stelle un grande problema che sta vivendo ora è la mancanza di identità su certi temi, perché se uno li trova a livello locale, trovi comuni dove si comportano in un modo, sono molto più vicini, sicuramente al centro d'astra, comuni dove hanno posizioni che sono vicinissime alla sinistra, addirittura quella più estrema, neanche al PD. E credo che poi dopo, alzandosi più in alto quello che può essere il Parlamento o l'Europa, questo problema si accentue ancora di più, per cui manca un'identità su dei punti che sono fondamentali, ad esempio uno su tutto che ci divide da loro è quello sull'immigrazione, perché al di fuori di proclami che ogni tanto sentiamo magari da Grillo o da qualcuno degli esponenti del Movimento 5 Stelle, i voti che vanno a fare, le posizioni che vanno a prendere poi dopo all'Europarlamento o al Parlamento sono diametralmente opposte alle nostre. Per cui penso che molto del loro scontro interno sia proprio sull'identità su certi punti, all'interno hanno persone che si riconoscono in una sinistra, io vedo ad esempio in un comune come Bologna, sono vicino, sui CIE hanno avuto una posizione, noi a Bologna abbiamo un hub, un centro smestamento, abbiamo chiesto come centro d'astra che venga ricom... Abbiamo voglia, questi nuovi CIE immaginati... Che c'era già il CIE da noi, poi è stato convertito in hub, noi chiediamo che venga riconvertito in CIE e il Movimento 5 Stelle ha una posizione comunque molto più morbida di discussione rispetto a quella presa ad esempio a livello nazionale. Per cui credo che sia molto questo lo scontro che c'è ora all'interno, probabilmente anche in vista delle prossime politiche perché comunque le posizioni che vengono prese dagli onorevoli quelli più in vista e queste liti magari sono dettate anche da posizioni che cercano loro di prendere all'interno per avere più peso in future elezioni e per spostare il Movimento più a destra o più a sinistra. Grazie a tutti.